Tre modifiche facili facili che ci consentono da un lato di evitarci un sacco di problemi con Windows 10 e con Windows 11 e dall'altro di migliorarli e aumentarne anche le prestazioni. Cosa dici? Andiamo a vederle insieme? Ti senti pronto? Iniziamo! Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va! E rieccomi qui anche oggi in versione a Mandalir, visto che la voce è rauca perché il raffreddore non mi vuole proprio abbandonare. Allora, armato di tisanuccia e caramelline sante, andiamo avanti a spada tratta. Di che cosa voglio parlarti? Voglio parlarti di alcune modifiche che ho apportato sempre da tanto tempo ai miei sistemi che mi hanno sempre soddisfatto molto ma di cui non ti avevo parlato. Ebbene sì, sia Windows 10 che Windows 11 sono due sistemi operativi molto belli ma purtroppo sin da quando sono stati introdotti hanno portato con sé, a mio avviso, anche dei peggioramenti dell'utilizzo e della velocità. Ebbene, proprio su questi peggioramenti vorrei andare a lavorare insieme a te per mezzo di tre file che ho creato quindi che basta un doppio clic per lanciare che ci semplificano la vita, ci velocizzano le macchine e ci risolvono anche qualche problemuccio. Andiamo a vederli insieme. Sono certo che hai già indovinato. La prima cosa che andremo a fare sarà procurarci questi file. Per farlo non faremo nulla di diverso dal solito e quindi apriremo il nostro browser, nel motore di ricerca andremo a digitare come sempre Gentiluomo Digitale, effettueremo la nostra ricerca e faremo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Andiamo ad aprire il nostro sito e una volta che si sarà aperto ci porteremo sul menu qui in alto e sceglieremo questa voce, quella che si chiama Downloads. Facciamoci clic su e nella pagina che si aprirà scenderemo un po' più in basso fino a trovare questa voce che con poca fantasia ho chiamato Miglioramenti Windows. Nel caso in cui tu non riuscissi a trovarla, ti prego non cadere nel panico, non strapparti i capelli e non correre in strada in preda alla disperazione. Ti basterà infatti eiettarti immediatamente su questa lente di ingrandimento qui in alto, farci clic sopra e al suo interno scrivere una qualsiasi parola del file che stai cercando. Dico una qualsiasi parola del file che stai cercando perché naturalmente questo piccolo trucco ti potrà servire per qualsiasi altro download sul nostro canale. Ma visto che oggi stiamo cercando di scaricare il file che si chiama Miglioramenti Windows, andremo a scrivere ad esempio la parola Miglioramenti. Effettuiamo la nostra ricerca e vedrai che in pochi secondi ti comparirà il risultato che stai cercando. Quindi ti basterà fare un clic sulla voce che hai scelto e aspettare che il download termini. Quando sarà terminato ti si aprirà una finestrella come questa e cliccherai su questo pulsante aprendo la cartella dei download che contiene per l'appunto il file che ci serve. A questo punto però chiudiamo prima la pagina del browser al retrostante che non ci serve più. Ed eccoci qui con il nostro file appena scaricato. La cosa che ti consiglio di fare è un bel doppio clic per aprire lo zip e successivamente di andare come ho fatto io in questo momento a selezionare tutte e tre le cartelle al suo interno dopodiché potremo trascinarle sul nostro desktop e andare a chiudere questa finestra. Ora che ti ritrovi queste tre cartelle sul desktop potrai tranquillamente tenerle qui oppure anche salvarle su una pennetta. In questo modo potrai utilizzare queste modifiche che non richiedono assolutamente alcuna installazione anche su computer diversi dal tuo. Ma andiamo a vederle una per una e a capire che cosa fanno. Cominciamo da questa qui quella che si chiama Velocizza Explorer. Andiamo ad aprire la relativa cartella e al suo interno, come in tutte le altre cartelle, te lo anticipo già, troveremo tre file. Uno di questi file sarà sempre quello che apporta la modifica che ci interessa. Un altro, quello con scritto Annulla per l'appunto, ovviamente va ad annullare questa modifica nel caso in cui per qualche motivo non fossimo soddisfatti. Mentre il terzo file, che si chiama sempre info.txt, conterrà una breve descrizione di quello che fanno i comandi all'interno della cartella specifica. In questo caso stiamo guardando la cartella che si chiama Velocizza Explorer. Che cosa fa? Con Windows 10 poco, con Windows 11 molto di più, si verifica un fenomeno davvero molto noioso per tutti quanti gli utenti, ovvero che quando andiamo ad utilizzare il nostro Esplora Risorse l'apertura di determinate cartelle può rivelarsi estremamente lenta. Questo è dovuto ad un fenomeno di utilizzo, secondo me sbagliato, da parte di Microsoft della cache. Se andiamo quindi a fare un clic con il pulsante destro sul file Velocizza Explorer.bat e scegliamo la voce Esegui come amministratore, ci verrà richiesto di confermare che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo e quello che avverrà sarà esattamente questo, ovvero che Explorer si chiuderà per un istante, verrà automaticamente riavviato e verranno apportate delle modifiche alla gestione della cache che renderanno molto più veloce e più fluido l'utilizzo del sistema. Non sarà necessario riavviare il PC ma sarà tuttavia consigliato al termine di questa modifica. Non posso farti vedere la differenza tra il prima e il dopo dato che su questo PC non c'erano file particolarmente grossi e comunque si trattava di una macchina abbastanza performante. Se tuttavia sul tuo PC dovessero esserci problemi, ricorda che la cartella Velocizza Explorer e il comando Velocizza Explorer.bat lanciato come amministratore sono la soluzione che fa per te. Andiamo al prossimo. Un'altra cosa che mi dà molto fastidio sia di Windows 10 che di Windows 11 e lo dico sia in qualità di tecnico che anche di utente di questi sistemi è la scarsità di informazioni a riguardo degli errori. Mi spiego meglio. Quando ci capita per esempio di ricevere una schermata blu della morte è praticamente impossibile capire con un colpo d'occhio che cosa sia realmente successo sul nostro computer a meno di non andare a fare una serie di indagini approfondite come abbiamo visto anche in dei video precedenti. Lo stesso capita nel momento in cui il nostro computer si dovesse bloccare o impallare nella fase di avvio o di arresto. Non sappiamo mai esattamente in che momento si è verificato questo blocco e non possiamo andare ad intervenire con certezza a meno di non fare altrettante analisi del sistema per capire quale sia la causa. Ebbene, la soluzione a tutto questo ci è data da questa terza cartella visualizzazione errori che conterrà al suo interno i soliti tre file. Quello che ci interessa in questo caso è quello che si chiama visualizzazione dettagliata errori mentre annulla visualizzazione errori sarà quello che andrà ad annullare la nostra modifica. Attiviamo questa modifica facendo clic destro con il pulsante del mouse e scegliendo la voce esegui come amministratore confermeremo con sì di voler apportare le opportune modifiche al nostro dispositivo e apparentemente non succederà nulla ma la differenza la potremo cogliere nel momento in cui andremo a fare il nostro primo arresto oppure il nostro primo riavvio del sistema. Infatti ci saranno delle visualizzazioni molto più dettagliate seppur istantanee quasi impercettibili all'occhio ma che in caso malaugurato di blocco del sistema oppure di problemi di qualsiasi genere che ne impediscano l'avvio verranno mostrate in maniera decisamente più chiara e lo stesso avverrà anche per quanto concerne le schermate blu della morte che saranno decisamente più dettagliate di quanto non siano di solito. Ed alzi la mano chiunque non senta la mancanza del vecchio metodo per entrare in modalità provvisoria un metodo semplicissimo che consisteva semplicemente nel premere il tasto F8 sulla nostra tastiera non appena si avviava il computer. Ricordo ancora questa pressione spasmodica del tasto che tuttavia con le versioni più recenti di Windows è cambiata. È sempre possibile naturalmente entrare in modalità provvisoria ma seguendo una procedura decisamente più arzigogolata proposta chissà perché da Microsoft. Ebbene ho pensato allora di ripristinare la possibilità di accedere alla modalità provvisoria utilizzando il vecchio metodo. Farlo è semplicissimo. In questo caso andremo ad aprire la cartella modalità provvisoria e al suo interno come abbiamo fatto in precedenza lanceremo il file modalità provvisoria.bat facendo un clic destro del mouse e scegliendo la voce esegui come amministratore. Confermeremo con sì di voler apportare le opportune modifiche al nostro dispositivo e all'apparenza. Ancora una volta non succederà niente ma la differenza la vedremo al riavvio. Se infatti andremo a spegnere oppure a riavviare il nostro sistema dovremo premere ripetutamente il tasto F8 fino a quando non ci comparirà il nostro buon vecchio menu. A questo punto potremo scegliere la modalità di avvio che preferiamo tra cui ovviamente ci saranno tutte le declinazioni della modalità provvisoria. Ed eccoci qui. Devo tuttavia ricordarti due cose. La prima è che non è facilissimo premere il pulsante F8 al momento giusto. Ci vuole un pochino di allenamento ma vedrai che sicuramente anche tu riuscirai ad entrarci. La seconda è che ho il sospetto che Microsoft abbia optato per la nuova tarantella di ingresso in modalità provvisoria perché questo metodo qui che ti ho appena mostrato fa un pochino a cazzotti con il Secure Boot tra i tu le opportune conclusioni. E a questo punto devo confessarti di essere veramente curioso di sapere che cosa pensi dei suggerimenti che ti ho dato nel video di oggi. Ti sono piaciuti? Li hai messi in pratica? Hai qualche suggerimento in merito? Hai qualche critica da fare? Beh insomma qualsiasi cosa tu pensi? Se ne hai voglia fammela sapere tranquillamente nei commenti perché come sai rispondo sempre molto volentieri a tutti tempo permettendo. Ma andiamo avanti restando sempre sull'argomento della nostra community perché ti vorrei parlare un istante del nostro canale segreto secondario Il Lato Oscuro. Ormai ha raggiunto una certa massa critica e quello che sto pensando nei prossimi mesi, ma si tratta di una cosa abbastanza immediata, è di fare delle notevolissime modifiche a questo canale e continuare a proporre dei contenuti anche se con uno stile ancora inedito. Insomma, grosse novità sono in arrivo, non ti spoilerò altro come si suol dire, ma vedrai che a breve ne riparleremo. E se per caso non sai che cos'è Il Lato Oscuro non ti preoccupare, trovi tutti quanti i riferimenti nella descrizione di questo video, ma passiamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi verranno effettuati grazie all'ausilio della nostra mitica lisztarella carta e penna. I ringraziamenti di oggi vanno infatti a Salvatore Sias, Antonio Nabais Pires, Cristian Perfumo, Graziano Segale, Pietro ed Aldo Explora per essersi abbonati oppure aver rinnovato il loro abbonamento al nostro canale. E quindi benvenuti a tutti, oppure ben rimasti a seconda dei casi nella community dei gentiluomini. Ma fermi tutti, squillino le trombe perché abbiamo un ulteriore ringraziamento per Francesco Azzara che si è sì abbonato, ma attenzione, attenzione, attenzione in qualità di distinto gentiluomo. E quindi, caro Francesco, è un vero piacere ed un onore togliermi ancora una volta il cappello farlocco davanti a te. E non abbiamo naturalmente terminato, perché ringraziamo anche il gatto mistico, detto Misti, Maurizio Andrenacci, Iron75 che ringraziamo due volte perché, come puoi vedere, ha inviato due supergrazie e infine Max Rossi perché, appunto, con i loro supergrazie hanno voluto contribuire alla vita della nostra community. E un ultimo specialissimo ringraziamento non può mai mancare ed è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti. E detto questo, non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento. Alla prossima! Iscriviti!